Il 27 ottobre alle ore 10 e 30 presso il campo sportivo Antonio Carrano a Santa Maria di Castellabate si svolgerà il terzo memorial con la partita del cuore, il ricordo di Tiziana Lembo. La 19enne è deceduta a causa di un infarto fulminante nel 2016. La manifestazione organizzata dall'associazione Tiziana Lembo vedrà lo svolgersi di un incontro di calcio con i pulcini del settore giovanile della polisportiva Santa Maria e l'incasso dell'evento verrà devoluto in beneficenza all'associazione di volontariato arcobaleno Marco Iagulli Olus e al comitato Forza Chicco. Prenderanno parte alla manifestazione anche le comunità parrocchiali di Castellabate, il comune di Castellabate e la Croce Rossa italiana. Come ogni anno i genitori di Tiziana insieme a varie associazioni del territorio portano avanti questo evento per incentivare la ricerca di patologie e per dare un messaggio di speranza. Grazie a tutti.